Prendici un po' va! E' un soldi, non conviene, fino a Calice per fare il vaccino. E' pure la mia! Ciao, saluta Sancho! A Calice andiamo a mangiare il gelato? Sancho! Sancho, che vaccino ha? Che cosa ha? Per tutto il controllo, perché in casa i gatti possono fare tutto. Da tutti! Il vaccino di... Anche la mia, sai? Non esce di casa! Il commissario, il commissario! Sta arrivando il commissario! Il commissario! Non hai messo il filmato? Ecco! Ah, ce l'ho ancora qua! Quello che tornavamo indietro! Ma vuoi? Ma vuoi? Forse è proprio... E lo mettiamo! Grande, Micia! Grande Rulome! Alle prese... Con l'anguria! Guarda che anguria, Micia! Rino! Abbiamo preso una ragazza nuova che... Non conteneva così in campagna... Si che se ti grazia non ti... Ciao a tutti! Rulome, sei un grande! Mi ha sterilizzato! Perché se non ha sterilizzato... Quando viene qualcuno, altro uomo... E' impazzissimo! Quanti siamo? Quanti siamo? Ho scelto bene anche stavolta... Naturalmente... Naturalmente l'ho comprata io la prima... Non è che volevo ricordare... Eccolo... Giusto per chiarire... Ma riprendi un po' all'uomo più bello di... All'uomo più bello di Cereale... Eccolo... Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? Stava riposando... Franco... Stava riposando... Passa la mano da... Franco... C'era sempre in mano... Franco... C'era sempre da una mano all'altra... C'era la pista... La mano... Grande Franco... E' commissario non lo riprendi? E' già rivolto a scoglionato... No... E' chissà... Ieri ha mangiato... Ah ecco... Grande commissario... Anche la tigra... Vai Rino... Alphio... Forza c'è Dara... Si ma... Mi siedo nel mio metro quadro... Alphio... Non fa però... Mi siedo nel mio metro quadro... E' passato un altro anno... E non mi muo di qua... Non mi schiotto... Un altro anno... Abbiamo la nuova tigra di Moncaglieri... Per favore riprendiamola... Massimo... In mezzo ci abbiamo... Diciti qua che ce l'ho sempre... L'uomo più bello della Calabria... Il gentleman di Cosenza... Il gentleman di Cosenza... Cosa? E' così! Cosa? M'èo... Ficca Santino! Ficca Santino... Ficca Santino... Ficca... Grande fico! Cosa? Grande fico! Grande fico! Ficca... 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 Ok... Ok... Abre... Elisa vieni che dov'è la mia collaborazione? Elisa vai a prendere l'anguria vieni patatina grande è la mia lisetta Toni un saluto agli amici un saluto a tutti ragazzi qua stiamo da via alla mitica baracca del grande Rino e quest'anno come potete notare abbiamo delle gas abbiamo rinnovamento dottore diglielo dili che ci siamo rinnovati 150 volt accendi accendi guarda su quanti cartellari